So che se fossi pazzo e dopo internato approfitterei di un momento di lucidità lasciate il mio delirio, mio unico martirio che faccia fuori meglio un dottore, sì un dottore credo che ci guadagnerei come gli agitati in cella finalmente lasciato in pace, tutto tace So che se fossi pazzo e dopo internato approfitterei di un momento di lucidità lasciate il mio delirio, mio unico martirio che faccia fuori meglio un dottore, sì un dottore credo che ci guadagnerei come gli agitati in cella finalmente lasciato in pace, tutto tace il pensato in effetti Grazie a tutti. Grazie a tutti.